3.466 metri di altezza, la vetta del Monte Bianco, una emozione unica, un panorama fantastico. Pensi a tante cose, pensi a quanto è piccolo l'essere umano e quanto è maestosa, fantastica la natura, quella natura che nessuno deve violentare, che nessuno deve violare e che a Taranto è stata scoprata, è stata violentata a causa della presenza dell'Ilva assassina con la complicità delle classi politiche di ogni colore, centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle che si sono succedute nel distruggere questa città. Il desiderio di un'aria pulita, un rispetto della natura che, come vedete, è qualcosa di fantastico, di inenarrabile. Si capisce quanto è sacra e quanto è bella la vita quando vedi questi panorami fantastici, di natura inconfondente, proprio invidia, pensando al nostro territorio. Ecco, quello che voglio donare a Taranto da candidato sindaco oggi e da sindaco domani, quello di far respirare l'aria pura a pieni polmoni, quell'aria che ci è stata legata e quell'aria che si respira qui, un'aria di pulizia, un'aria di turismo, un'aria di onestà, un'aria di novità, tutti quattro assieme per una Taranto senza incontro, per una Taranto di polmoni.